bene gli amici di expert4house mi hanno mandato una roba che secondo me interesserà tantissimo molti gli amici di expert4house chi sono sono il nostro fornitore ufficiale di tutto quello che riguarda domotica sono off ma hanno anche telecamere sistemi di sicurezza se non avete visto il video che avevo realizzato per informarvi di questa collaborazione andate a guardarlo perché avevo riservato anche dei codici sconto ve li lascio comunque anche nella descrizione di questo video e date un'occhiata al sito perché si trovano veramente un sacco di cose interessanti come questa questo è un dispositivo smart un relais un semplice switch entra 220 esce 220 da 30 ampere 6600 watt tante volte non sappiamo come fare con i boiler a far partire robe che consumano tanto con questo la risolviamo alla grande tuya ambiente smart life adesso ve lo faccio vedere lo proviamo e magari facciamo anche uno schemino ecco il nostro switch scatola semplicissima istruzioni che ora non ci servono questo è il nostro smart switch tuya wifi si chiama vl sv01 da 85 265 volt 30 ampere 6600 watt linea e neutro in ingresso linea e neutro in uscita un pulsante per il reset l'accoppiamento e l'attivazione null'altro prima domanda che sicuramente qualcuno di voi mi farebbe e se entra nella 503 e purtroppo non entra non c'è proprio modo entrerebbe così di taglio o di piatto ma chiaramente non c'è modo di stare nella scatola se per caso avete una scatola montata in una cassa vuota magari dietro è già stata sfondata e c'è il vuoto nel muro allora potete collegarlo infilarlo buttarlo giù è una roba un po a mio cugino però l'eventualità c'è altrimenti va tassellato fuori dalla 503 tramite i fori predisposti sul case e purtroppo bisogna usarlo in esterno la morsettiera rimane comunque protetta morsetti che sono buoni fatti a vite di buona dimensione quindi per mettere il terminale forchetta o eventualmente il cavo nudo ma vediamo adesso questi 30 ampere se sono giustificati da un elettronica interna adeguata purtroppo dobbiamo rompere un sigillo di garanzia ma gli amici di expert for house non si arrabbieranno perché lo vogliamo aprire e controllarlo come si deve dunque abbiamo semplicemente un grosso rene da 30 ampere montato a bordo qui c'è la parte wifi qualche condensatore il led una resistenza alla morsettiera e poi abbiamo le piste abbiamo le due fasi esterne e i due neutri i due neutri come vedete sono comuni quindi quelle in uscita in appoggio la fase passa attraverso re con questa pista non fine ma ben dimensionata ed esce con quest'altra pista ancora più grossa niente di più semplice però almeno abbiamo un relais di portata un po più grande a bordo ora richiudiamo il tutto ok cominciamo da prima ad alimentarlo andiamo direttamente in smart life ok quindi con il led lampeggiante rosso e verde se non è in accoppiamento basta tenere 5 secondi premuto il pulsante andiamo in ricerca vedete che viene trovato con questo simbolo dell'accensione un dispositivo facciamo aggiungi diamo il nome della rete wifi a 2,4 e mettiamo la password andiamo avanti wifi switch aggiunta in corso aggiunto correttamente fine lo troviamo qua nella schermata con tutti i dispositivi è un dispositivo che semplicemente ci consentirà di spegnerlo o accenderlo quindi led spento led acceso non abbiamo grossissime impostazioni qui nel setting troviamo solamente l'opzione dell'ultimo stato quindi se deve ricordarlo se deve essere acceso o spento un dispositivo che in teoria ha anche l'apprendimento di controlli remoti nella schermata principale abbiamo ancora la possibilità di gestire dei timer tutto il discorso del conto alla rovescia delle programmazioni del timer ciclico timer a random o inching ossia lo spegnimento automatico dopo al massimo 59 minuti 59 secondi ad ogni attivazione ora il dispositivo è spento non resta che mettere un carico importante e vedere se lo regge senza problemi chiaramente possiamo anche accenderlo dal pulsante ok nel frattempo ho collegato una presa provvisoria ho toccato una pistola termica già accesa alla massima potenza quindi circa 2000 watt l'atterrà senza problemi vedete che dentro rossa sta scaldando di brutto e lui non avrà nessun problema perché a bordo abbiamo un relais da 30 ampere lo schema di collegamento qual è è subito fatto perché dove ad esempio in una presa esistente abbiamo fase neutro che arrivano direttamente alla presa dobbiamo uscire dalla presa con un cavo con la spina che entra dentro fase neutro in ingresso o eliminare la spina collegare direttamente la linea al nostro relè e in uscita collegare direttamente il carico o la spina stessa in base a come riuscita ad installarlo fisicamente il collegamento è sempre linea diretta in ingresso e linea in uscita come abbiamo visto il neutro in appoggio solo per comodità di cablaggio ho fatto delle prove se lo alimentate al contrario funziona regolarmente ma chiaramente i due morsetti centrali diventano una fase comune sempre presente e va a interrompere solo il neutro in questo caso se ad esempio attaccate un faro led vedrete che rimangono leggermente accesi quindi vuol dire che al contrario chiaramente l'uscita funziona regolarmente e soprattutto funziona il comando vocale se avete la skill di smart life attiva e configurata dentro l'app di amazon per comandarlo con la voce accendi wifi switch spegni wifi switch tutto regolare tutto perfetto un dispositivo secondo me che servirà un sacco di cose purtroppo non è piccolissimo però nel supportare delle correnti importanti anche le dimensioni contano questo ce l'hanno in italia subito disponibile non costa tanto secondo me in molte situazioni può tornare più utile mi raccomando iscrivetevi al canale che non costa nulla un bel like ci vediamo prossimo video prossima diretta o se passate negozio da torino magari se me li ordinate ve li posso anche far trovare il negozio ciao da massi dattoli